Allora, David, raccontaci di che cosa tratta la vostra inchiesta. L'inchiesta parla di un argomento molto complesso e su cui c'è ancora un sostanziale silenzio forte in Europa, ovvero l'apparato di repressione del governo turco e le sue modalità di operazione in Italia e in Austria. È complesso perché è un sistema capace di adattarsi alle situazioni e ai contesti che si trova di fronte. Quindi ci sono vari tipi di minacce che vengono esercitate, una minaccia violenta, una minaccia ammirata e una minaccia formale. Ora, questo può sembrare abbastanza vago, ma poi guardando l'inchiesta si capirà a cosa mi riferisco. E dall'altra parte, guardando questo fenomeno in Europa, abbiamo analizzato i casi austriaco e italiano, abbiamo anche dovuto considerare quale sia la risposta europea proprio a questi casi di intromissione, in qualche modo in quella che è la vita sociale dell'Europa e che riguarda cittadini, rifugiati, i membri delle istituzioni proprio appartenenti alla comunità europea. Ed è proprio sul sapore di questa risposta che si gioca uno dei punti cardine dell'inchiesta, direi. Tobias, raccontaci, come è nata l'idea della vostra inchiesta? Quali sono stati gli elementi che vi hanno fatto incuriosire alle dinamiche che raccontate nel vostro lavoro? Come è nata questa idea? Ho conosciuto David grazie ai miei studi, ci siamo ritrovati tutte e due a studiare scienze politiche e siamo sempre stati tutti e due interessati al Medio Oriente. Un giorno, durante il picco della crisi pandemica del coronavirus, abbiamo fatto una call e mi ha raccontato del primo morione. Quindi abbiamo iniziato a buttare giù idee per qualche settimana, anche se quasi subito abbiamo avuto l'idea di analizzare le relazioni rispettivamente tra l'Unione Europea e Turchia e Italia e Turchia. E una volta avuta quest'idea, abbiamo guardato più da vicino anche l'Austria, dove il fatto che i nazionalisti turchi minacciano gli oppositori politici turchi e le minoranze etniche come i kurdi è un problema ormai da anni, mentre in Italia è raccontata abbastanza poco dai media. La nostra idea è stata dunque di focalizzarci su questo tema ed ecco che questo è stato l'inizio della nostra ricerca. Arianna, raccontaci invece come è stato lavorare tutti insieme, come è stato lavorare anche affiancati dalla vostra tutor Laura Silvia Battaglia, quali difficoltà, quali punti di forza? Lavorare insieme in definitiva è stata un'esperienza sotto tutti i fronti, perché ci siamo dovuti avvicendare nelle faccende e perché eravamo tutti alla prima esperienza. Quindi l'abbiamo presa proprio come una vera e propria sfida. L'aiuto di Laura si è rivelato fondamentale perché ci ha sempre dato dei consigli molto utili, estremamente intelligenti e puntuali. È stata sicuramente un'esperienza che ci ha fatto crescere tantissimo. Se vi doveste rivolgere a dei futuri partecipanti del Premio Morione, dei futuri finalisti, come descrivereste questa esperienza che voi oggi vi ritrovate a vivere? Posso dire che è un'esperienza da cui c'è da aspettarsi veramente tanto lavoro, tanta fatica, ma una gratificazione immensa perché il Premio Morione permette una grandissima libertà, una libertà di espressione e credo apprezzi il coraggio e la determinazione a dosare anche affrontando temi molto scomodi che forse tanti altri contesti riterrebbero eccessivi e inappropriati e anche perché offre un team fortissimo, un team di tutor molto forte. Noi sono stati veramente fortunati con Laura e Silvia Battaglia, quindi le ragioni per farlo sono assolutamente tante. È una grande sfida, ma ne vale la pena.